Il treno regionale è veloce 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 Il treno originale è veloce, 25 e 20, 30 e le ore 17 e 30, proveniente da Alessandria, il quad binario 7, invece il quad binario 8. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, i viaggiatori diretti ad Aosta, il domano è che attuare per il treno della scanzione di tre. Aosta, allontanarsi dalla scanzione di tre. Allontanarsi dalla scanzione di tre. Allontanarsi dalla scanzione di tre. Allontanarsi dalla scanzione di tre.